Musica Cos'è la vera intelligenza? Questi sistemi fanno cose che noi avremmo considerato, anche solo dieci anni fa, esclusivamente umane. La capacità di produrre tutto, testi poetici creativi, nuovi, testi letterari nuovi, magari di bassissima qualità, l'originale. Dieci anni fa avremmo detto che un computer non è capace di fare queste cose, oggi il computer è capace di farle. Quindi abbiamo toccato qualcosa di simile in un calibri di funzionamento del nostro linguaggio? Non lo sappiamo perché non abbiamo un modello forse su cui tutti siamo d'accordo. È probabile che anche nel funzionamento del nostro cervello entriano componenti statistico probabilistici. Sappiamo che il nostro cervello è molto più complicato di questi sistemi di intelligenza artificiale, perché per un verso i neuroni del cervello sono di più di quelli dei sistemi di intelligenza artificiale di oggi, anche se ci stiamo progressivamente avvicinando, e soprattutto perché sappiamo che lo scambio dei segnali non è sovra elettrico, è anche chimico, cioè quel modello semplificato del neurone non corrisponde a come funzionano i nostri neuroni, che funziona in maniera più complicata. Quindi per questa via possiamo ancora ritenere che ci sia un salto di complessità matevole e per tutto ragionevole dire che oggi questi sistemi non sono coscienti, hanno alcune proprietà emergenti. Per esempio oggi si insegna un computer a toccare a stati in maniera assolutamente diversa da quella che avevamo visto per Deep Blue, con dandovi tutte le regole, ma anche la valutazione, le aperture, i centri partita. Oggi vi si danno solo le regole degli stati. L'obiettivo, dare scaccomato all'anniversario, e poi il sistema comincia a giocare partite contro se stesso. All'inizio gioca malissimo, ma sale regole, all'inizio muove i pezzi, secondo le regole va a caso. Sale regole, comincia a giocare partite contro se stesso, sa l'obiettivo, progressivamente impara, sviluppa le sue strategie di gioco, non ho più bisogno di schiere dei grandi maestri che li diavano le valutazioni, perché il sistema si crea le sue strategie, e creando le sue strategie, che a volte noi non cacchiamo, come mai quella mossa fa vincere il sistema? A volte un grande scacchista gli dice che lui ha fatto una mossa geniale, riconosce, altre volte non sa dire perché quella mossa funziona, però il sistema vince. I sistemi di questo tipo oggi distruggono tranquillamente qualunque sistema deterministico e qualunque giocatore umano di scacchi. Negli scacchi c'è un punteggio che si chiama punteggio ego, tipo il tennis, il soldi, il popolare con l'idea di Silber, l'idea del punteggio dei temisti. Per gli scacchisti ci sono punteggi analoghi, si chiama ego, il punteggio dello scacchista. Il migliore scacchista umano, il campione del mondo, Maglio Scarso, ha un elo che lotta per avere 3.000 di elo. I sistemi di questo tipo, basati su reti neurali, che imparano una soglia a giocare a scacchi, hanno un elo superiore al 3.000%. Sembra poca la differenza, ma in termini scacchistici non ha visto. Maglio Scarso, il campione del mondo dei scacchi, rispetto a uno di questi sistemi un piccoliano. E questi sistemi fanno mossa che a volte noi non capiamo. hanno sviluppato delle proprietà, è diventato uno scacchista, ma in maniera emergente. Noi in genere pensiamo che la proprietà emergente sia la coscienza. Non c'è solo la coscienza. Questi sistemi non sono oggi, credo si può dire tranquillamente per la situazione di oggi, che non sono sistemi coscienti, non sapevoli, ma sono sistemi che hanno proprietà emergenti, alcune delle quali riguardano anche la creatività. Quindi la risposta alla donna è complicata e presuppone delle teorie che spesso non abbiamo, dell'intelligenza, della coscienza, della mente, e anche una comprensione che per ora, che non abbiamo, non possiamo avere come funziona. In sostanza confrontiamo due scatole nere, per noi una scatola nera è la nostra intelligenza, ne vediamo i risultati, ma non sappiamo bene cosa funziona, ed è in parca una scatola nera al sistema di una rete neurale, perché per i motivi che abbiamo dentro non possiamo mai sapere esattamente cosa sta succedendo dentro una rete neurale, a cosa corrispondono tutti i numerini di un token. Quindi sono due scatole nere, confrontarle è difficile, quello che possiamo dire è che oggi come oggi la nostra scatola nera è più grande e fa fare più cose, però anche questo è molto difficile andare.